questo ha sbagliato Henri, Henri no ma no però forse ha sbagliato signor Giustino signor Giustino e lei? e io nella vita precedente no però signor Giustino questo non è era un pappagallo era un pappagallo nella vita precedente e Henri un pappagallo era un uccello un uccello era lei io ero un pappagallo lei era un pappagallo mi scusi signor Giustino bianco era un pappagallo bianco lavoravo in ospedale insomma non è che sia la gente entrava a sticchire e si indirò a randare che se ne andava? a razza e via e merda? non era una bella vita sicuramente ai ci sia sa via delle lemmora disgrazia accetta le lemmora no però dove sta andando signor Giustino? a Pisciai io mi scuso scusate io mi scuso con la gente andiamo avanti